La montagna d'inverno è sicuramente affascinante. La neve rende tutto candido e soffice. Nel manto nevoso si scelano dei segreti che solo un occhio esperto può cogliere. Per comprendere di che cosa si tratta ci facciamo aiutare da Walter, un guardia parco da poco in pensione che ha dedicato parte della sua vita a questi aspetti. Io sono Walter Perot, sono un ex guardia parco, sono andato in pensione da poco, ho sempre amato la montagna, ho sempre lavorato in montagna facendo da gioventù il soccorso piste presso la Sestriere. Poi ho fatto il concorso al parco, sono entrato come guardia parco e fin dai primi anni mi sono sempre occupato di nivologia, di fare stratigrafie. Ho fatto i vari corsi con la Ineva e in questi anni mi sono sempre occupato di queste cose qui. Sono andato in pensione però la passione è tanta per cui mi dedico ancora adesso ad aiutare i colleghi quando ce n'è bisogno di venire a fare stratigrafie, cubi di slittamento, blocchi di slittamento e via dicendo. Chiediamo a Walter quando e dove viene fatta la stratigrafia. La stratigrafia viene eseguita settimanalmente, vengono mandati i dati poi all'ARPA Piemonte che li elabora per il bollettino valanghe. Si fa o nell'area dove abbiamo la stazione automatica della zona del velotto oppure si fa intinerante. E' importante sapere anche il tipo di terreno che ci troviamo quando la facciamo intinerante per cui è importante anche d'estate poter camminare sul terreno, andare a vedere le zone perché il terreno influisce molto sul discorso della stratigrafia. Se vogliamo fare il blocco di scivolamento si fa con una pendenza superiore ai 25-35 gradi altrimenti come oggi abbiamo fatto una stratigrafia sul piano per vedere proprio il cambiamento del manto nevoso. E come si raggiunge il luogo prescelto per la stratigrafia? In parte vengono fatte presso la stazione automatica del velotto e in parte vengono fatte intineranti. Tutte le stratigrafie bisogna comunque salire con le pelli, raramente c'è l'aiuto degli impianti o che, però si sale sempre con le pelli o con le ciaspole a secondo della quantità di neve che troviamo sul fondo valle. E' importante avere anche un buon allenamento e muoversi sempre e sapere soprattutto muoversi sulla neve. Quindi arrivati sul pendio prescelto ci si prepara e si inizia a investigare? Ci si prepara con tutto il materiale e si inizia subito con la prova penetrometrica, quindi col battaggio. Si mette la sonda col martello e si lasciano dei colpi sull'asta penetrometrica. L'asta penetrometrica a secondo del tipo di neve entra piano piano nel manto nevoso, bisogna fare molta attenzione alle croste che ci sono all'interno, ci possono essere delle croste da fusione rigelo e quindi bisogna fare molta attenzione con dei piccoli colpi sull'asta nevometrica. Una volta finita la prova penetrometrica, quando l'asta è sul suolo, si inizia a scavare, si fa una buca sempre con l'asta penetrometrica in ombra, quindi noi la faccia al sole e la parte scavata deve essere assolutamente in ombra perché altrimenti il sole modifica immediatamente il manto nevoso. Mentre si fanno queste operazioni, occorre non dimenticare di prendere la temperatura dell'aria. Poi iniziano ad analizzare gli strati, si mette subito il termometro perché in quel momento, come la neve è aperta all'aria, si modifica la temperatura della neve, per cui c'è bisogno di un termometro molto rapido, con una sonda lunga, si mette nel manto nevoso ogni 10 cm. E si fa la temperatura della neve fino giù al suolo. Dopodiché si inizia ad analizzare gli strati. Con la buca si vedono molto bene gli strati, addirittura si riconosce una nevicata accompagnata da presenza di sabbia proveniente dall'Africa. Poi dagli zaini escono strumenti davvero strani. A che cosa servono? Questi strumenti che abbiamo servono per l'analisi stratigrafica. Abbiamo la lente di ingrandimento per vedere il tipo di grano che c'è, perché abbiamo la tavoletta sulla quale appoggiamo, i vari strati, i vari grani di neve che vengono presi dagli strati, possiamo trovare delle croste da fusione rigelo, possiamo trovare, dipende anche molto molto dal tipo di stagione in cui andiamo a fare la stratigrafia. Sicuramente dopo una prima nevicata o una seconda nevicata al mese di dicembre avremo dei grani piccolissimi, neve molto soffice, neve che pesa poco, con una resistenza minima. Mentre in primavera abbiamo delle resistenze più forti per via delle croste di ghiaccio e la neve sicuramente molto più umida, molto più pesante. La neve umida della primavera arriva a pesare oltre 300 kg a metro cubo, mentre quella invernale arriviamo a 50-60 kg a metro cubo. Ci stai dicendo che pesate la neve dai diversi strati? Sì, si pesa la neve perché noi sappiamo che in base al peso della neve sappiamo anche il quantitativo di acqua che c'è all'interno, ne vediamo le resistenze e soprattutto il peso, perché poi quando si formano le valanghe, questa neve qui fa tutte valanghe a blocchi che sono molto molto pesanti. Abbiamo visto che tutti questi dati vengono raccolti e trascritti, insieme ad altri, quali la temperatura dell'aria, la quota, l'esposizione, il meteo. La buca poi viene richiusa. A questo punto che cosa si fa? Allora, finita la stratigrafia, si ridiscende a valle, sperando che la neve sia, il manto nevoso sia bello, in modo da poter godere dopo la salita, godere almeno di una discesa in neve fresca o in neve primaverile trasformata, e altrimenti si fatica e si fa soprattutto attenzione a non farsi male. Cosa succede quando si discende a valle? Arrivati di nuovo in sede, tutti questi dati vengono inseriti in computer e mandati alla Ineva, che ne elabora, vale elaborato per le valanghe. In questi anni sono state fatte centinaia e centinaia di stratigrafie. Io ho poi curato per i comuni di Pragelato, Ussò, Penestrelle e Erur, la carta valanghe, dal 1994, aggiornandola sempre annualmente. Accanto all'indagine sul territorio, l'Enteparco si occupa di trasmettere la conoscenza e l'esperienza acquisita da altre categorie professionali, che lavorano in montagna e al pubblico. Un bagaglio di conoscenze che può aiutare a trascorrere in sicurezza una splendida giornata. Un bagaglio di conoscenze che può aiutare a trascorrere in sicurezza una splendida giornata. Grazie a tutti.